buongiorno oggi parliamo principalmente dei bipoli elettrici ovviamente prima di parlare in maniera adeguata dei bipoli bisogna ricordarsi molto brevemente le definizioni delle principali grandezze elettriche quindi ripetiamo molto brevemente la corrente elettrica è sostanzialmente costruita costituita dalle cariche elettriche che fluiscono un mezzo conduttore tipicamente un metallo come il rame alluminio queste cariche elettriche fluiscono dentro il conduttore la corrente si misura in ampere del rapporto fra la quantità di carica che fluisce in un conduttore nel tempo quindi si misura in curva al secondo la tensione elettrica o differenza di potenziale è sostanzialmente la grandezza che è in grado di far muovere le cariche elettriche dentro un conduttore quindi così come la differenza di quota fra due serbatoi idraulici è in grado di far muovere l'acqua dal punto a quota superiore al punto a quota inferiore così la tensione o differenza di potenziale elettrico è in grado di far muovere la corrente elettrica dal punto a potenziale elettrico maggiore al punto a potenziale elettrico inferiore si misura in volt la potenza elettrica è il prodotto della tensione ai capi del conduttore moltiplicato per la corrente che lo attraversa e rappresenta anche l'energia elettrica in gioco nell'unità di tempo si misura in watt la resistenza elettrica invece il rapporto fra la tensione ai suoi capi la corrente che lo attraversa si misura in ohm e questa legge famosissima è codificata nella legge di ohm che si può esprimere come tensione uguale resistenza percorrente allora per parlare di bipoli ovviamente uno deve conoscere un pochino bene deve conoscere bene queste grandezze perché i bipoli si fa nei bipoli si fa riferimento alla conoscenza di queste grandezze principalmente corrente tensione resistenza ma ora andiamo a concentrarci sull'aspetto dei bipoli che quello che è l'argomento di questa breve lezione allora i bipoli sono elementi che si caratterizzano per avere due morsetti cui posso applicare una certa tensione che possono essere attraversate una corrente elettrica e si possono descrivere con una caratteristica qui lo vediamo alcune caratteristiche le caratteristiche di un bipolo lineare vedete in un piano in ascissa abbiamo vi in ordinata la corrente quindi al variare in questo caso della tensione ai capi del bipolo vedete la corrente può avere un andamento lineare oppure non lineare tipicamente la prima espressione quella del bipolo lineare è la caratteristica tipica del resistore elettrico mentre queste sono le caratteristiche tipiche di elementi non lineari che sono i diodi che però non sono oggetti della nostra trattazione attuale ok noi ci concentreremo sui cinque principali bipoli che incontriamo nelle reti resistive in corrente continua il primo bipolo è il generatore ideale di tensione il generatore ideale di tensione lo vedete nella figura qui sulla sinistra è rappresentato in questa maniera è un bipolo che ha ai suoi capi una tensione che è costante che uguale con la forza elettromotrice o differenza di potenziale che questo generatore è in grado di creare nel circuito la corrente può avere un valore qualsiasi ma l'equazione caratteristica di questo bipolo è quella di avere sempre la stessa tensione ai suoi capi la corrente può assumere un valore qualsiasi lo vedete da questa caratteristica che nel piano in cui la tensione varia in funzione della corrente quindi abbiamo corrente in ascissa tensione in ordinata e abbiamo una tensione che è costante qualsiasi sia il valore di corrente ecco si capisce già abbastanza che questa qui è un'idealizzazione del generatore perché in teoria questo potrebbe essere un circuito che è in grado di erogare anche una potenza infinita perché se la corrente tende a diventare infinita questo cadrebbe lo vedremo poi più avanti se io cortocircuitassi il circuito ecco questo sarebbe in grado di creare una potenza infinita cosa che evidentemente non è vera infatti il passaggio successivo in altre lezioni è quello di parlare del generatore reale di tensione così come del generatore reale di corrente ok ci ho detto quello che è importante è ricordarsi questo tipo di equazione ricordarsi che questo bipolo è in grado sempre di manifestare ai suoi morsetti una tensione costante indipendentemente dalla corrente che viene erogata ecco ricordiamo anche che questa convenzione di segno quella in cui la corrente esce dal morsetto caratterizzato dal avere il potenziale maggiore che è indicato dalla freccia v ecco quando la corrente esce da questo morsetto stiamo lavorando nella convenzione di segno dei generatori quindi generatori si caratterizzano per una convenzione di segno in cui intendiamo positiva la corrente che esce dal morsetto a potenziale maggiore questo è assolutamente da ricordarsi il duale del generatore ideale di tensione è il generatore ideale di corrente anche lui ha un morsetto positivo in tensione in questo caso la corrente esce dal morsetto positivo la particolarità di questo sistema di questo generatore sempre ideale è sempre teorico è quello che indipendentemente dal valore di tensione sui capi la corrente erogata sempre secondo la convenzione di segno dei generatori è quella in cui abbiamo detto e lo ripetiamo in cui la corrente esce dal morsetto a tensione maggiore a potenziale maggiore è quella per cui vedete si può dire che la tensione può assumere un valore qualsiasi quindi la caratteristica è quella di una retta verticale così come quella del generatore ideale di tensione è quella di una retta orizzontale ecco lo vedete qua torniamo indietro quindi niente noi questo lo interpretiamo dicendo guarda che la corrente è sempre la stessa sempre positiva secondo la convenzione dei generatori ma la tensione può assumere un valore qualsiasi questo importante quando poi si andranno a scrivere i principi di kirchhoff del sistema resistore questo è ovviamente il terzo elemento non può non si può prescindere dalla resistenza che descritta dalla legge di ohm tensione ai capi del resistore uguale prodotto di resistenza per corrente famosissima legge che può essere declinata in altre due forme quella in cui la corrente uguale al rapporto fra tensione e resistenza oppure quella che definisce il resistore come rapporto fra tensione corrente c'è un nuovo elemento l'elemento è la resistenza la resistenza quindi si può definire come rapporto fra la tensione che si misura in volt e la corrente che si misura in ampere e quindi c'è questo nuovo parametro che noi definiamo appunto resistenza che si misura in ohm notare due cose uno la convenzione di segno del resistore è la convenzione di segno degli utilizzatori che è diversa da quella dei generatori sostanzialmente l'opposto mentre nei generatori la corrente si intende positiva se esce dal morsetto potenziale maggiore qua la corrente si intende positiva se entra nel morsetto potenziale maggiore perché questo perché così come il generatore così il generatore produce una potenza elettrica che esce dal generatore e va verso il circuito così il resistore assorbe dal resto della rete tipicamente da qualche generatore una potenza elettrica seconda cosa la caratteristica tensione in funzione della corrente è una retta che passa per l'origine ovviamente al crescere del valore della resistenza questa retta è più inclinata o è meno inclinata se la resistenza si abbassa ma una retta che passa per l'origine e che continua anche vedete nel semipiano negativo perché ovviamente è possibile avere anche l'inversione rispetto a questo verso della corrente della tensione che se giro la corrente gira anche la tensione perché perché il resistore non ha una tensione propria una tensione che si manifesta quando è attraversato da una corrente che è imposta di solito dai generatori presenti nella rete questi sono i principali bipoli che incontriamo nelle reti ma ce ne sono altri due che sono altrettanto significativi importanti che andiamo a vedere un attimino dopo prima concentriamoci un attimo sul concetto di resistenza perché la resistenza dipende dalle caratteristiche del materiale delle sue dimensioni secondo un'altra legge estremamente famosa è quella che ci dice che la resistenza uguale al prodotto della resistività rho per la lunghezza del circuito fratto la sezione tipicamente la lunghezza si misura in metri alla sezione millimetri quadrati da cui deriva poi che la resistività facendo l'inverso di questa formula si misura in non per millimetri quadrati fratto metro quindi vedete questa è la resistività del conduttore la sezione del conduttore e la sua lunghezza attenzione la resistività dipende dal tipo di materiale in cui è realizzato il circuito come vi dicevo facendo l'inverso sistemando non l'inverso sistemando la formula e ricavando il valore della resistività rho in funzione di resistenza r lunghezza e sezione si ottiene che la resistività uguale alla resistenza per la sezione fratto la lunghezza da cui deriva il fatto che l'unità di misura della resistività è l'om per millimetro quadro fratto metro in realtà se guardate la sezione potrebbe anche essere in teoria espressa in metri quadrati quella quell'espressione semplificherebbe non per metro però diciamo che nella tecnica pratica i conduttori hanno delle sezioni dell'ordine dei millimetri quadrati e ovviamente le lunghezze dell'ordine dei metri quantomeno nell'impiantistica normale vedete che a diversi materiali corrispondono diversi valori di resistività qui abbiamo tre parametri tre scusate tre materiali l'argento rame alluminio il primo è un metallo nobile con una bassa resistività ma non tanto più bassa di quella del rame che a sua volta è un materiale nobile un metallo nobile l'alluminio che è molto utilizzato per tutta una serie di installazioni elettriche ha una resistenza decisamente resistività e quindi una resistenza parità di lunghezza di sezione decisamente superiore ma un costo decisamente più basso quindi a volte si preferisce l'argento ovviamente viene qua indicato solo a titolo teorico diciamo che rame alluminio sono ovviamente gli elementi più comuni nell'impiantistica e nelle apparecchiature elettriche con prevalenza ovviamente per via di un ottimo rapporto costo prestazioni per il rame attenzione non la vediamo in questa lezione perché necessiterebbe di un approfondimento che va un po' oltre l'obiettivo ci siamo posti quello di dare un quadro generale dei bipoli elettrici la resistività dei materiali non è un parametro costante ma dipende dalla temperatura in cui il conduttore inserito facendo un po' una semplificazione si può dire che al crescere della temperatura cresce linearmente anche la resistività in realtà la relazione un pochino più complessa però questo si può tranquillamente fare a livello semplificativo le altre due come vi dicevo gli altri due circuiti importanti sono il circuito aperto e il cortocircuito cominciamo dal bipolo circuito aperto il bipolo circuito aperto è sostanzialmente si può pensare di ottenerlo da un circuito che ha una resistenza talmente grande da essere infinito sostanzialmente si può ottenere in maniera molto semplice apprendo un circuito cioè interrompendolo fisicamente la caratteristica di questo circuito che poi un interruttore aperto è quella che qualsiasi tensione io vado ad applicare al bipolo la corrente sarà sempre comunque zero ovviamente anche qui torniamo discorso questo un circuito aperto ideale l'interruttore non è in grado di sostenere una tensione qualsiasi però nell'ambito del ragionamento che andiamo a fare ci va benissimo considerarlo in questa maniera ora la caratteristica nel piano iv è quella di una retta che coincide con l'asse delle tensioni che appunto l'asse che ha caratteristica uguale zero che è l'equazione caratteristica del circuito aperto come interpretiamo questa cosa molto semplicemente ripetiamo qualsiasi tensione applicata a quel bipolo la corrente sarà sempre comunque nulla quindi il circuito è interrotto il suo duale è il cortocircuito che praticamente si può interpretare come un circuito di resistenza nulla se un circuito ha resistenza nulla siccome la legge di ohm dice che la tensione è uguale a r per i se la resistenza è nulla ma qualsiasi sia la corrente che passa dentro il cortocircuito la tensione ai suoi capi sarà sempre comunque zero come si realizza un cortocircuito semplicemente con un circuito conduttore di lunghezza adeguatamente breve ecco sufficientemente corta da essere trascurabile sostanzialmente è anche un interruttore che passa dall'essere aperto all'essere chiuso ok quindi se è un interruttore che sta nella funzione aperto io lo interpreto come un circuito aperto se lo chiudo lo interpreto come un cortocircuito questi cinque sono i cinque bipoli che bisogna saper collocare correttamente dentro una rete elettrica per determinarne il funzionamento andiamo avanti anche qui per completare la questione sui bipoli diamo qualche definizione un paio di di rete di nodo di lato di maglia allora quando noi mettiamo in campo più bipoli e li connettiamo otteniamo una rete elettrica quindi definiamo la rete elettrica l'insieme di più bipoli ovviamente così facendo ottengo una struttura più complessa che dobbiamo definire attraverso alcune definizioni per così dire topografiche sono quelle di nodo di lato e di maglia allora noi definiamo nodo un punto della rete che a sua volta è la connessione di più bipoli elettrici con un punto in cui convergono almeno tre bipoli poi vediamo uno schema definiamo invece lato la serie di bipoli che connette tra loro due nodi adiacenti mentre definiamo maglia un percorso chiuso dentro una rete elettrica queste sono definizioni importanti perché ci permettono di andare definire i due principi che assieme alla legge di ohm sono un po i pilastri della materia quindi il principio di kirchhoff delle correnti che ci dice che le correnti che entrano in un nodo sono uguali a correnti che escono questo lo vedete in questa raffigurazione il nodo di solito rappresentato in quel cerchietto nero vedete quattro correnti due che vanno verso il nodo quindi sono entranti due che se ne allontano quindi interpretiamo come uscenti il primo principio di kirchhoff ci dice che la somma delle correnti che entrano è uguale alla somma delle correnti che escono questo importante ed è un principio legato alla conservazione dell'energia il secondo principio di kirchhoff riguarda invece le tensioni allora noi possiamo dire che presa una maglia dentro una rete elettrica la somma algebrica delle tensioni che agiscono in quella maglia che è un percorso chiuso all'interno di una rete elettrica è sempre uguale a zero questo qui un po più difficile da scrivere rispetto al primo principio quindi partiamo dal presupposto che ogni bipolo si caratterizza oltre che da una corrente da una tensione ai suoi capi quindi noi andiamo a individuare una regola pratica per la scrittura della legge di kirchhoff delle tensioni mentre quella delle correnti è abbastanza intuitiva su questa bisogna fare un piccolo ragionamento quindi fissato una maglia dentro la rete quindi un percorso chiuso che inizia finisce quindi nello stesso punto dentro la rete ho fisso un verso arbitrario per la sua percorrenza quindi verifico tutti i bipoli che incontro in questo percorso e ad ogni bipolo assegno una tensione i generatori di tensione hanno una loro tensione che è la forza elettromotrice fissando questo verso percorrenza arbitrario io prenderò queste forze elettromotrici come positive se il verso di percorrenza mi fa entrare nel morsetto positivo del generatore altrimenti ci metto almeno quando invece incontro un resistore le tensioni vanno prese positive se il verso di percorrenza coincide con quella della corrente e viceversa ovviamente questi ragionamenti si fanno se io suppongo di conoscere quali sono i criteri scusate i versi delle correnti che circolano nei vari lati della rete e questi sono importanti perché sono la base poi di una serie di soluzioni per le reti elettriche si vedranno un pochino più avanti però interessava semplicemente dare un quadro riassuntivo sulle caratteristiche principali dei bipoli elettrici quindi ricordiamoci 5 bipoli elementari sono i due generatori tensione corrente il resistore circuito aperto circuito chiuso ovviamente uno deve sapere anche quali sono le principali grandezze elettriche cos'è la resistenza in funzione dei suoi parametri lunghezza resistenza resistività e sapere che questi bipoli interconnessi definiscono una rete che si può definire o descrivere con la definizione di nodo ma lato e maglia per poi andare a descriverla e ipotizzare delle soluzioni della rete o comunque degli studi ok è tutto grazie dell'attenzione e ci sentiamo a brevissimo